Mancano le maestre negli asili comunali di Viereggio. È stato un inizio di anno scolastico difficile alle scuole dell'infanzia Il Melograno e Basalari, dove per coprire il tempo pieno, dalle 14 alle 16, è stato necessario ricorrere a personale non scolastico, messo a disposizione dalla società comunale Iker. Problemi di organico anche alle morganti per garantire la compresenza delle educatrici. A causa dei pensionamenti i numeri sono risicatissimi. A rischio non c'è soltanto la copertura degli orari, ma anche quella delle insegnanti di sostegno. Disaggi notevoli per centinaia di famiglie Viereggine, che riunite nel comitato Vudi, hanno chiesto per scritto un incontro urgente con il commissario prefettizio Fabrizio Stelo, a farsi portavoce dei genitori e del personale scolastico, e anche Isaliana Lazzerini, ex assessora sociale, insegnante e nonna. L'amministrazione pensava di poter statalizzare la scuola Basalari, per cui le maestre che poi venivano a essere, rimpinguavano gli altri istituti, invece lo Stato ha detto di no alla statalizzazione. Il commissario in primo luogo si deve prendere la responsabilità, come sicuramente se la prenderà, della sicurezza dei bambini, delle insegnanti, ma dei bambini. E quindi deve valutare in prima battuta se questa risposta che viene data momentaneamente da Iker è confacente a questa esigenza naturale dei genitori per i loro bambini. E poi non trascuriamo che ci sono bambini con dell'handicap. Intanto le famiglie Viereggine attendono ancora i rimborsi sulle rette degli asili nido, sulle tariffe delle messe scolastiche e degli scuolabus, dovuti a seguito della sentenza del Tar, che annullò gli aumenti stabiliti nel post di sesto. I genitori chiederanno al commissario se e quando questi rimborsi arriveranno.